E' di proprietà del comune di Santa Marina l'area di 2000 metri quadrati utilizzata come centro per la raccolta di rifiuti solidi urbani situata in località Roccazzo e sequestrata questa mattina dai carabinieri del nucleo operativo ecologico che dopo mesi di indagini hanno apposto i sigilli alla zona perché hanno ritrovato rifiuti pericolosi stoccati alla rinfusa senza distinzione con rifiuti non pericolosi privi di copertura esposti anche all'azione di eventi meteorici i rifiuti erano stati deposti su pavimentazione sconnessa con grosse buche di rifiuti plastici carta cartone indifferenziato a tutto mischiato tutto esposto alla pioggia e agli agenti atmosferici è stato infatti accertato anche come i reflui contaminati dai rifiuti provenienti dal centro di raccolta anziché essere convogliati in basca tenuta finivano di fatto nel vallone schizzolo recapitato nel fiume bussento ed infine in mare il procedimento penale prevede l'iscrizione nel registro degli indagati di due persone denunciate in qualità di responsabili affidatari del servizio per la gestione del centro di raccolta entrambi responsabili in concorso tra loro del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata uno dei due soggetti dovrà anche rispondere di falsità ideologica avendo attestato falsamente come le acque del piazzale fossero convogliate in una vasca tenuta circostanza poi smentita dagli accertamenti del Noe di Salerno